Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale, sono qui da Nord Affari perché ho fatto mettere a posto il danno che avevo fatto nel pavimento e ho deciso di fare anche un video perché ci sono sempre un sacco di mezzi esposti e magari può interessarvi vedere un po' di mezzi nuovi, usati, ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le tasche Allora, non so da dove iniziare, ogni volta che vengo qua ci sono troppi mezzi e non so mai da dove partire Giusto stamattina ne hanno consegnati tre nuovi, iniziamo dagli usati così partiamo cifre basse, basse tra virgolette perché comunque i van hanno grande mercato e quindi tengono molto il valore nel tempo Iniziamo da questo che è un Roller Team del 2015 se non sbaglio, 34.500 euro con 100.000 km quindi direi che ne è ancora A me non fa impazzire perché è troppo bianco, però la disposizione è quella classica Ah, i cassetti così, questo non lo sapevo Figo, ci sta, quindi il frigo sarà lì, ok, da 90 litri E' molto simile al 2Win in realtà come disposizione, però è troppo bianco per i miei gusti Una cosa che mi piace è il bagno perché ha il lavandino che si può traslare In questo modo quando si fa la doccia non dà fastidio E addirittura io lo lascerei sempre lì, tanto quando si è seduti sul WC non credo che dia grosso fastidio Carino La seduta è gigante, il tavolo ha la prolunga girevole Bello, ci sta, troppo bianco per i miei gusti però al suo perché Poi vediamo cosa c'è C'è un Challenger Vani del 2007 con 109.000 km, figuriamoci Ah, una cosa che mi ha fatto sorridere e che ha molto senso è la manovella del tendalino qua Ci sta Qua ha sempre la solita disposizione La cosa particolare di questo mezzo è che ha il gavone chiuso da questo separè E secondo me è una cosa carina Disposizione sempre la solita, un sacco di pensili per mettere vestiti e cose Qui un mobile molto grande per essere su un furgonato Frigo trivalente, Dometic Solito bagno Ovviamente siamo su un van quindi i bagni non sono mai giganti Invece la D-Net è molto spaziosa Magari avessi un tavolo così Poi c'è lui Un Globescout, un Globescar Che poi in realtà è un puzzle e due win con tetto soffietto Questo tetto soffietto lo conosco molto bene perché è identico al mio Vi faccio vedere Ecco Io non ho quella luce però per il resto è identico Ovviamente il mio è un 540, questo è un 6 metri Quindi ha una D-Net molto più grande Ha un tavolo più grande con prolunga girevole Ha questa cucina che poi cucina uguale Il lavello ha anche solo una disposizione leggermente diversa Il bagno è quello classico del due win Quindi molto grande Ci sta Frigo trivalente Qui un mobiletto per stivare vestiti eccetera E qui anche come colore è molto molto simile al mio Addirittura credo che il letto dietro sia uguale al mio Forse è un pelino più grande perché è un 540 Però questi mobili qua sono identici Sia come colore, come forma, come spazi, tutto Quindi su questo posso giocarmi tutto perché lo conosco bene E vi posso assicurare che è un gran mezzo Sì sì, è veramente identico qua Anche il colore dei sedili è uguale È un mezzo del 2011 Ah giusto, ha motore 3.160 cavalli Quindi è una bestia Questo lo invidio un bel po' Ha 35.000 km Non so come un mezzo del 2011 posso avere 35.000 km Però ne ha molto pochi Perché succede così A volte i camperisti li usano poco Per svariati motivi Prezzo non me lo ricordo Non c'è scritto Però tanta roba Poi un altro mezzo molto interessante Questo Roller Team Livingston 4 Prestige Perché ha una disposizione che non si vede spesso 28.000 euro È del 2007 con 39.000 km Anche qua non è stato utilizzato molto Però invece di avere una semi dinette Che si forma girando questi sedili Con una panca lì Ha una dinette completa Quindi c'è molto più spazio qua rispetto ad altri 6 metri Ma la cosa bella è che questo qua Si allarga Quindi la seduta diventa veramente molto grande Cucina Prolunga per cucinare E al fondo troviamo due letti a castello Il letto sopra Ovviamente è un pochino più piccolo Però comunque sono due letti di Dimensioni generose Qui troviamo il bagno Classico Niente di nuovo E ovviamente questa dinette Abbassando il tavolo Diventa un letto matrimoniale Può essere un po' scomodo Tutte le volte dover fare il letto Però su un 6 metri Trovare una dinette di questo tipo Grande così Tanta roba Qui non so perché abbiano fatto Uno sportello così piccolo Magari può essere un po' scomodo Però Spazi così Su un furgonato da 6 metri Si trovano raramente Non penso che in questo momento Ci sia Una ditta Che allestisca Un mezzo Con una pianta del genere Quindi Figo Ci sta Lo faccio vedere anche da dietro Così capite meglio Perché io non mi so spiegare molto Come vedete ci sono Due letti a castello Qui sotto c'è spazio Non è vero Qui sotto c'è il serbatoio dell'acqua Pensavo ci fosse un gavone Per stivare un po' di cose E qua C'è lo spazio per Due bombole Da 5 kg Ovviamente Non si può Avere tutto Qui lo stivaggio Non è moltissimo Però gli spazi interni Sono molto generosi Se non sbaglio Ha Riscaldamento a diesel Infatti Perché avendo solo due bombole Da 5 kg Altrimenti Se così non fosse Se avesse il riscaldamento a gas Ci sarebbe poca poca autonomia Invece con il riscaldamento a gasolio Non c'è alcun problema Anche per più giorni Con temperature Ben al di sotto dello zero Una cosa che non mi piace Di questo mezzo È quella lì Roller Team Aveva Il vizio di fare Queste minigonne Che secondo me Hanno poco senso Furgonato Con le ruote da 15 Perché già è basso di suo Se tu gli vai a mettere Delle minigonne Cioè Ha un Non dico di Ma al minimo Pezzo di fuoristrada Rischi di spaccare tutto Sono queste qua Per carità Magari esteticamente Sono carine da vedere E anche lì Non credo Però Non lo so Io le toglierei subito Però lì va a gusti E Dipende dall'utilizzo Che fate Del mezzo Poi Poi Cosa c'è qua Un 2 win Vabbè 2 win Ve lo faccio vedere 2 win R Perché ha il bagno Centrale passante I nuovi tavoli Sono secondo me Molto furbi Perché hanno Questo taglio qua Che permette di entrare Più comodamente Hanno anche Ovviamente La Ce la faccio raga La prolunga girevole Che è fatta Come si deve Come si deve Qua niente di nuovo La cosa bella È questo bagno passante Perché permette di avere Un piatto doccia Veramente gigante E soprattutto Di creare Due spazi separati Tra Di net Cucina E la zona letto Classico frigo Da 90 Molto spazioso C'è la freezer E tutto Questo qui Ha le finestre Classiche Poliplastic Che sono Come quelle che ho io Però C'è anche un Due win Plus Non R Quindi bagno normale Con le Dometic Sites S7 Che sono molto belle Perché sono a filo Esteticamente Secondo me Sono molto Molto Fighe Costano anche Una fraccata di soldi Però Questo è chiuso Perché è venduto Mi spiace Non posso farvelo vedere Però ci sono altri Due win Ce ne sono troppi Ok Questo qua Che riconoscete Dallo scarico Ha una Truma a gasolio Infatti Pose Due win Plus 140 cavalli 45.000 euro Questo è l'Elegance Quindi ha dei colori Molto bianchi Un po' come quello Che ho usato io La scorsa primavera Non mi fanno impazzire Questi colori qua Però In generale Sono apprezzati Quindi Questa è una cosa Molto molto personale Per i miei gusti È troppo bianco E lo sporcherei subito Però Ci sta È figo Ah dov'è? Ah qua c'è il comando Della Truma Il CP Plus Che permette di Programmare La stufa La stufa Ma adesso la spengo Perché non mi sembra Il caso Io consiglio sempre La stufa a gasolio Che sia Truma Ove basto Perché non si deve più Pensare alle bombole Ovvio che se uno Utilizza poco il camper D'inverno ci può stare Pensare alle bombole Così Però se uno si fa Già una vacanza Di una settimana Stare lì a pensare Ah quante bombole ho Sto per finire Devo trovarla È una cosa noiosa Questo qua È un altro Due Wind Plus Su Citroen Con 140 cavalli Alla fine È praticamente identico Anche questo Alla Truma Diesel Bravo Andrea Che li ordina Con la Truma Diesel E non a gas Sono assoluto Sostenitore Della Truma gasolio Uh qui Un altro mezzo interessante C'è un POSL Summit 600 Quindi un 6 metri Summit 600 plus Non c'è nulla Di veramente nuovo In questi mezzi Però ci sono Dei piccoli dettagli Che secondo me Fanno la differenza Per esempio Una cosa che apprezzo Molto in questo mezzo È la mancanza Di un mobile lì Che è vero Se vogliamo Manca un po' di spazio In realtà poi no Perché ci sono Un sacco di pensili Dove stivare roba E il gavone è molto grande Però ti dà Un'idea di aperto Ed è molto più bello Un po' come sul mio 540 Che lì non c'è il mobile Perché non ci sarebbe Lo spazio per metterlo Però da lì Poter vedere il tavolo E tutto Ti rende tutto Più carino Secondo me Poi La cucina Mancando Questo mobile È molto grande Quindi per chi ama cucinare Qui può Veramente fare di tutto Se vogliamo dirla tutta Qui il Lavello è un po' piccolino Per quanto mi riguarda Ci sono due fuochi Che vanno benissimo Tanto uno Tre fuochi Li utilizza Praticamente mai Questo è interessante Perché puoi mettere Varie spezie Bicchieri Posate Quello che vuoi No magari le posate Le metti qua Esatto Ok Però comunque Uno può organizzarsi Come meglio crede Un'altra cosa Molto molto bella È il bagno Partiamo A parte che ho già spoilerato Però partiamo Dalla chiusura Dalla porta La porta scorrevole Secondo me È una vera figata Perché permette Di non avere una porta Qui che rompe le scatole Fai così E hai aperto E hai chiuso il bagno Ma la cosa bella È che qui hai il wc Qui hai il lavandino E la doccia Dove te la fai Te la fai qua No non te la fai qua Te la fai Qua così Veramente tanta roba Praticamente Nello stesso spazio Hai due zone diverse Quindi Spettacolo Questo bagno qua In particolare Non l'ho mai provato Però Così a occhio Secondo me Ha un senso La cosa brutta Se vogliamo È che Quando io sono qua Mi sto spogliando E tutto Per fare la doccia Devo uscire Perché non posso Mettermi qua Però comunque Il camper in genere È una cosa intima Quindi Anche se esci Mezzo nudo Non è un grosso problema Bello Mi piace Manca il tetto soffietto Che io sicuramente Farei mettere Anche se non so Se sul summit Si possa mettere Ma penso di sì Penso di sì Un'altra cosa bella Del summit È che ha la finestra Lì Quindi Si può dormire E svegliarsi Guardando Il panorama Una cosa Particolare Che tanti apprezzano Però per me È una cosa un po' scomoda Ve la faccio vedere adesso Qui sotto Ok Aspettate Qui sotto Si apre E troviamo Ok Praticamente Questo è un armadio Posizionato sotto Sotto il letto Dove uno Può mettere Le giacche Che può essere Una cosa utile Per mettere Delle cose Che uno Utilizza poco La cosa scomoda Qual è Che trovandosi Sotto il letto Ogni volta Devi alzare il letto E quindi Anche Le coperte Tutto Insomma Ogni volta Devi rifare il letto In poche parole Secondo me Non è Non è un'idea Stupida Il gavone Il gavone Il gavone Magari apro Oh Hanno cambiato Il modo di aprire dietro E io Abituato al mio 2011 Vediamo se funziona Ah il serbatoio Dell'acqua Di qua È vero Perché di là C'è l'armadio Giusto È vero Questo è Il gavone Che è Un signor gavone Qui troviamo Il serbatoio Dell'acqua 100 litri Qui troviamo Molto Probabilmente Le bombole Esatto Ce ne stanno Due da 10 chili Penso anche Le bafing In vetro resina O alugas Quello che volete Questo è il kit Terzo letto Perché La di net Si può trasformare In un Un altro letto Quindi è un tre posti letto E quattro posti viaggio E fine Ah una cosa interessante È che essendoci la finestra lì Che non è A scorrimento Ma è a compasso C'è un blocco Sull'apertura In questo modo Se io Ho la finestra Aperta Vedete che arriva qua Se avessi la finestra aperta E sbattessi In maniera violenta Il portellone Se l'aprissi in maniera violenta Non rischio di romperla Perché C'è un blocco Qua Semplice ma funzionale E penso che quella finestra In estate Faccia più che comodo Cosa vi faccio vedere Oh madòi Questo video sta diventando lunghissimo Scusate ma Quando inizio a parlare di van È il mio mondo E quindi mi piace un po' Farvi vedere Quello che è Ci sono anche un sacco di Camper Classici Usati Di tutti i prezzi Qui per esempio Troviamo un Elnag Sui 17.000 euro Quindi qualcosa di più fattibile Un po' per tutti Non mi soffermerò più di tanto Perché A me non piacciono Lo sapete Non mi piacciono Però Per chi ha bisogno di spazio Sicuramente Questi sono un'altra roba Rispetto ai furgonati Però è anche vero Che quei furgonati Arrivi in posti Dove con questi Non ci arrivi Io ogni volta che entro Su questi mezzi Mi sento un po' spaisato Perché quando Riesco a fare più di tre passi Mi sembra Di volare Questo è un Challenger Nuovo Gigante Un 7 metri E passa I Challenger In realtà Mi piacciono un sacco Hanno delle disposizioni Un po' particolari Questa è classica però Dopo voglio farvi vedere Un Semi integrale Che Quasi mi piace L'Icone Su base 3000 160 cavalli Anche perché con tutto questo peso Deve avere potenza Tra l'altro su Ducato Non su Daily Quindi doppia di net Entrambi possono diventare Due letti Quindi un letto Matrimoniale E un letto singolo Lì abbiamo la mansarda Con un letto gigante E qui due letti A castello Il bagno Vabbè È gigante Fine Tra l'altro È bello alto sotto Però è trazione anteriore Magari fa un po' di fatica Anche se il motore Ne ha Un miller Da 17.000 euro Franchia Questo è particolare Ha un suo perché A parte che vedo subito che ha le foie E poi ha un sacco di spazio A parte una D-net Anzi una semi-d-net Perché si usano i due sedili girevoli Davanti Però ha un tavolo gigante Due poltrone Veramente uno spettacolo Cucina Che neanche a casa Doccia separata WC Lavandino Armadio Gigante Letto Poi la cosa carina Qua Questa scaletta pieghevole Che secondo me è geniale Poi qui apri E puoi andare Nel gavone Non credo che comprirei mai Un mezzo così grande Perché mi sentirei limitato Però se avessi Figli e tutto Chissà Il futuro Guarda che gavone Guarda che gavone Ah tra l'altro si apre anche lì Quindi qui potresti anche caricare una moto Lo spazio c'è Ovviamente qui poi si va su un discorso Molto più complesso Che è quello dei pesi Sì puoi caricare la moto Ma questo qua Già sarà al limite Se uno poi va a metterci altro peso Come una moto Siamo fuori Questo è un mezzo particolare Questo è un Challenger Mageo Prium È una disposizione che Non ho visto solamente una volta Ed è una figata Secondo me Praticamente ha una Dinettona gigante Qua davanti Qui ha la cucina Sopra la dinette Ha un letto basculante Matrimoniale Ok Poi Qui dietro Ha un altro letto E qui troviamo il bagno Con la doccia integrata Spazio per lo stivaggio Assolutamente Non manca Qui c'è il frigo Freezer È veramente strano Ah questa È pure una prolunga Quindi Per cucinare Cioè guardate qua Cucinare qua E avere lì il tavolo Sembra Sembra quasi di essere al ristorante Ha veramente un senso Ok ho aggiustato tutto Non mi aspettavo questo Questo botto E boh È strano È strano Figo È anche molto grande 34.990 euro Poi ci sono C'è un altro Mansardato piccolino 6 metri Qualcosa È un altro mezzo interessante È questo qua Perché è un T4 Coach A tetto alto Che ha il suo perché È un mezzo da 11.000 euro Se non sbaglio Tenuto bene Ed è bello Perché ha due zone separate Zona giorno E zona notte Sopra La comodità È quella Che il letto È sempre fatto Non dormi Con un telo Attorno Come può capitare Sul California La cosa negativa Ovviamente L'altezza Perché non è più Alto due metri Ma molto di più Non so se vi ricordate Quel tetto soffietto Che vi ho fatto vedere In fiera Parma A settembre Lo Sky Up Oggi è arrivato Il primo mezzo Con tetto Sky Up Eccolo qua È un 2Win Andrea lo ha messo a noleggio Così tutti potranno provare L'emozione di dormire In tenda sul camper Che è una cosa Assolutamente fighissima Io sono super amante Del tetto a soffietto Per quanto sia un costo importante Secondo me È una figata Totale Infatti Qui se ne vedono un sacco Qui c'è il mezzo di Mamo Ciao Mamo Deve fare un po' di lavoretti Cos'altro farvi vedere Questo non so se è in vendita Ma c'è un T4 California Ah il Revolution Vabbè il Revolution Ormai lo conoscete Vediamo se è aperto No è chiuso È chiuso È chiuso È chiuso Tra l'altro con Si è chiuso Con finestre Sites Quindi molto figo Direi che i mezzi sono finiti Vi ho fatto vedere Bene o male tutto Volevo farvi vedere Anche un 540 Non ci sono 540 Purtroppo E Vabbè ci sono due motorhome Vi faccio vedere anche quelli Così facciamo Ah no 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 Scusate scusate Volevo farvi vedere questo mezzo Ok non è il mio Perché è un semi integrale Grosso 6 metri e tutto È un Challenger 180 Vito Fiat Però secondo me Ha alcune cose molto particolari Mi ha colpito Perché ha uno spazio Allucinante Come vedete Ha una dinette Mega mega spaziosa Un tavolo Che si allarga Qui un matrimoniale Basculante Che scende Blocco cucina Piuttosto grande Frigo Gigante Bagno Mega spazioso Per essere un 6 metri E qui Troviamo il piatto doccia Qui dietro No però sono in dubbio Non è un 6 metri Dubbio Forse è più di 6 metri Sotto i 6 metri Sì 5,99 Ho detto bene Perché è strano Trovare tutti questi spazi Su un semi integrale E dicevo che qua in fondo C'è un C'è un armadio Qui c'è un appendi abiti Con una guida Scorre Puoi mettere i vestiti qua E c'è veramente Un sacco di spazio Un'altra cosa interessante Che voglio farvi vedere Perché secondo me È una figata Uno è qua a mangiare Ok E uno dice Ok Sarà un due posti viaggio E quattro posti letto Perché questo qua Sicuramente diventa un letto Però i posti per viaggiare Con le cinture Dove sono? Uno Due Schiaccio questa leva E tiro su Metto questo Anzi Oh sì No No sì Quello Boh Non lo so E sono pronto a viaggiare Sicuramente Quell'affare che si mette sotto Non è questo Questo per farvi vedere Che è molto veloce Trasformarlo Da un quattro posti viaggio A una comodissima Dinette gigante Tac Tac Fatto Il tavolo Si apre Cioè manco a casa Sarà un metro per un metro E bom Vi faccio vedere anche Questi due Motorhome Che sono molto diversi l'uno dall'altro Uno fa anche molto Non dico ridere Però È molto race Cioè ha un Muso molto cattivo Ed è anche molto basso È un 6 metri E ha un sacco di spazio Per essere così corto Fa molto All'interno è molto Furgonato Secondo me Però la cosa bella Che a me piace un sacco È che ha letto la francese Quindi letto di lato Tagliato qui per passare E qua Un bagno Con doccia integrata Stretto Ma lungo Quindi Ci sta L'ultimo mezzo Che voglio farvi vedere È il motorhome Qui vicino Che è completamente diverso È un Imer È un Imer B694 SL Su base Fiat 2003 160 cavalli 39.000 euro Qui un sacco di spazio Infatti qui c'è un letto basculante Che non dà fastidio Alla dinette Perché Si trova sopra I sedili Anteriori Quindi si può tranquillamente Uno può tranquillamente dormire L'altro Lavorare al pc O Mangiare Fare colazione In dinette Qui lo spazio di certo Non manca E troviamo Piatto doccia Separato Dal bagno Mi sono dimenticato Di farvi vedere Un po' di prezzi E alcuni dettagli Perché per farvi vedere Tutti questi camper In modo dettagliato Avrei perso Due ore È un due ore di video Direi che non mi sembra il caso Se volete informazioni Andate sul sito di Nordaffari O sentite Andrea È una persona super in gamba Ma anche gli altri ragazzi Sono super esperti Sicuramente sapranno consigliarvi E darvi i consigli Le dritte che vi servono Da Nordaffari è tutto Ci vediamo presto Ciao